12 uomini e 12 donne, c'è parità di genere all'interno della lista della Lega a supporto del candidato sindaco ad Avezzano, Tiziano Genovesi. In conferenza stampa sono stati presentati 24 candidati del Carroccio che assieme a Fratelli d'Italia, Udc e Cambiamo Futuro sostengono il candidato sindaco alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Genovesi dice della sua squadra che è la migliore possibile per la città. È la migliore espressione della città secondo me perché abbiamo composto una lista che è fatta di 12 uomini e 12 donne che provengono da tutti gli ambiti e gli spaccati della società civile. Sono tutti uomini e donne che stanno dando nei loro ambiti professionali delle migliori esperienze e delle migliori sinergie. Sempre più probabile il ballottaggio da questo punto di vista il candidato a sindaco ribadisce che non ci saranno inciuci. Non siamo disponibili e disposti a fare inciuci o inciucetti con nessuno, quindi noi stiamo lavorando con la coalizione di centrodestra in maniera unita e compatta e nel momento in cui andremo al ballottaggio, parleremo alla città e veicoleremo quello che è il messaggio politico del centrodestra, veicoleremo quello che è il messaggio politico di Tiziano Genovesi, ma senza snaturale la composizione di partenza e senza dover fare accordi o accordi chi con nessuno. Infine Genovesi evidenzia la necessità politica delle dimissioni dalla presidenza di ACAM della candidata a sindaco di Forza Italia Anna Maria Taccone. C'è un'opportunità di carattere politico, io non ho mai detto che è incompatibile, ineleggibile, ma ho semplicemente detto che per opportunità politica una professoressa che ambisce ad essere il nuovo della politica vezzanese dovrebbe, deve dimettersi per non poter falsare quello che è il corso della campagna elettorale per non utilizzare il gettone di presenza che percepisce all'ACAM per poter fare la sua campagna elettorale.